massimo giuseppe bossetti ha fatto visita all'urna con la salma del santo papa giovanni ventitresimo il cosiddetto papa buono con lui ovviamente altre 200 persone che appartengono a diversi gradi bossetti ha voluto fare questa visita che è durata circa un'ora di tempo 60 minuti si è avvicinato alla teca con le spoglie del santo ponendo la mano sul vetro in questione bossetti che viene etichettato come il carpentiere di mapello questo dunque sarebbe quanto stando a quello che sarebbe riportato su web di oggi 26 maggio 2018 il video termina qua dunque una visita importante per toccare con mano e adorare il grande papa buono papa giovanni ventitresimo un chiaro saluto iscrivetevi questo video non vuole assolutamente ledere la prevasi di massimo giuseppe bossetti ma solo informare eventuali persone del fatto che bossetti ha fatto visita al papa buono giovanni ventitresimo saluti e al prossimo video dall'italiano